Nel 2008, in attesa di eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, Donato De Carolis fu nominato commissario dell'ente fiera dell'ascensione di Francavilla Fontana. Il suo incarico doveva durare sei mesi, sono trascorsi undici anni, senza compenso e senza rimborsi spese e nel frattempo tre anni fa è diventato commissario liquidatore. Senza più personale, con un'esposizione debitori di 238 mila euro e la rinuncia alle quote da parte di Regione, Camera di Commercio e provincia di Brindisi, ora il socio di maggioranza è il Comune di Francavilla, che però sembra non essere intenzionato ad acquisire il patrimonio, oggi inutilizzato. Una struttura di 15 mila metri quadrati, che un tempo ospitava la tradizionale fiera dell'ascensione, una campionare che si svolgeva a maggio, la cui organizzazione, a causa della nuova normativa regionale, era poi stata delegata ad un privato. Non ha ragione più di esistere, questa è la realtà, e stiamo lavorando, uno degli anni, dal 2013 in poi, stiamo lavorando per questo progetto di chi deve spegnere un po' il cerino, nel senso chi deve chiudere questa partita. A chiudere l'ente fiera ci hanno provato negli anni un sindaco e un commissario prefettizio, ma arrivata la nuova amministrazione, l'iter si è di nuovo bloccato. Un patrimonio pubblico di così importante valore viene rinviato non so a quando, credo che è un fatto più di pigrizi intellettuali che di altro.